Amici di Tutomotori, siamo qui all'AutoSea, la concessionaria Opel di Reggio Emilia e Provincia. Oggi, per il primo appuntamento dell'anno, siamo all'esterno in questa bellissima giornata di sole e vi propongo questa carrellata di vetture nuove e a chilometri zero. Opel Mokka, a partire da 16.900 euro, oggi la proponiamo anche con 8 anni di garanzia, quindi potete avere la possibilità di acquistare la vostra Mokka, benzina, diesel e GPL con 8 anni di garanzia. Abbiamo anche qualche vettura a chilometri zero, nell'allestimento Innovation, che è il più completo, 1.610 cavalli. Vi aspettiamo sempre per una prova su strada, qui in via Fratelli Cervi, 8 Reggio Emilia. Qui invece abbiamo la Meriva GPL, disponiamo di diversi chilometri zero con un prezzo veramente eccezionale. 14.900 euro, vi consegniamo una macchina bianca, metallizzata, più accessori, meno accessori, una per l'altra a 14.900 euro più le spese del passaggio. Grande economicità della vettura, grande spazio, 19 euro con un pieno, 400 chilometri. Anche questa vi consiglio di venirla a vedere e provare all'AutoSea. Qui Astra, nuovissima, sia berlina, che qui abbiamo in esposizione, sia station wagon, diversi chilometri zero, a partire da 19.000 euro nell'allestimento full optional. Quindi, grande possibilità di vetture all'AutoSea, sia nuove, sia a chilometri zero, vale sempre il discorso della prova su strada. Inoltre, venendo avanti, Corsa, tante possibilità di vetture a chilometri zero, a partire dal 1.200 a benzina, intorno ai 10.500 euro, 1.400 GPL e 1.300 multijet turbodiesel, dai fatidici 4 litri per 100 chilometri. Una vettura veramente economica nei consumi. Venendo avanti, il nostro fiore rocchiello, la vettura, la city car, la potete parcheggiare qui a Reggio Emilia dove volete, 20 chilometri con litro di benzina, 5 porte, bagagliaio, una city car da 3,70 metri con un grande spazio. Anche qui, chilometri zero, a partire da 9.200 euro. Ed ora ogni promessa è debito. Un saluto alle mie nipotine Silvia e Lucia, un saluto dallo Zione, ed è con questa simpatia che vi aspettiamo, qui all'Auto Sì, a Reggio Emilia, in via Fratelli Cerviotto. Un saluto da Marco Golinelli e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.